Buongiorno Antonella Buongiorno Pio, buongiorno a tutti Allora, cosa cuciniamo di buono oggi? Allora, oggi faremo del maiale con mele annusche e prugne con una salsa di arancio candite Perfetto, tra l'altro c'è questa unione se mi consenti, fra dolce, fra virgolette perché sono frutti relativamente dolci Sì, sono un anno dolce, diciamo così Esatto, e il maiale che è comunque carne Allora, quali sono gli ingredienti e poi passeremo alla preparazione Allora, prenderemo quattro nodini di maiale due mele annusche cinque o sei bacche di ginepro quattro prugne secche un mezzo bicchierino di grappa per scumare il tutto del provolone del monaco uno spicchio d'aglio, delle foglie di salvia un po' di burro, olio extravergine, sale, pepe e basta Perfetto, allora passiamo invece alla preparazione Sì, inizieremo con lo sbucciare le mele che taglieremo a dadini e pesteremo in un mortaio delle bacche di ginepro insieme a un po' di burro che faremo sfumare in una padella insieme alle mele le faremo rosolare un po' con delle foglie di salvia e poi sfumeremo con della grappa Perfetto Poi prenderemo il nostro maiale in questo caso ho preso dei nodini di maiale che taglieremo come delle tasche farciremo con queste mele annusche già cotte con delle pugne secche che avremo fatto cuocere un poco di olio e sfumato sempre con la grappa e delle foglie di salvia Sì Il provolone del monaco tagliato a tocchetti Chiuderemo il tutto e faremo rosolare in un po' di burro e olio extravergine con uno spicchio d'aglio sfumeremo con della grappa sale e pepe è una ricetta molto semplice e poi a fianco ci metteremo dell'arancio candito che abbiamo fatto noi facendo con le bucce dell'arancio in modo che dà questo agrodolce che è molto piacevole Perfetto Il piatto mi sembra diciamo fra virgolette complicato però tutto sommato delizioso Non è tanto complicato basta avere tutti gli ingredienti a portata di mano Perfetto e sarà sicuramente delizioso Allora ti chiederei di ricordarci rapidamente gli ingredienti e il nome del piatto Il nome del piatto è Maiale con mele annusche e prugne e provolone del monaco Gli ingredienti sono 4 nodini di maiale 2 mele annusche 6 bacche di ginepro 4 prugne secche 1 mezzo bicchierino di grappa del provolone del monaco 1 cento grammi di provolone del monaco 1 spicchio d'aglio 5-6 foglie di salvia un po' di burro olio extravergine sale e pepe e arancio candito che andremo a mettere vicino Perfetto Grazie mille ad Antonella Rossi Buona giornata Scusate del ritardo Assolutamente non preoccuparti poi torneremo a collegarci con te nei prossimi giorni Grazie ancora ad Antonella Rossi Buona giornata Grazie mille ad Antonella Rossi Grazie mille ad Antonello Rossi